Due importanti lavori di manutenzione sulle strade di Bellante Stazione lungo la Nazionale, da una parte Migliorie e dall'altra una rotonda proprio sull'incrocio che ha visto numerose vittime a causa di incidenti stradali. Un finanziamento di oltre 250 mila euro da parte della provincia di Teramo per garantire la sicurezza in una strada ad alta percorrenza che arriva fino al mare. Altri due importanti interventi fatti su Bellante, abbiamo pavimentato diverse strade l'anno scorso, altrettante quest'anno, circa quattro interventi sulle strade provinciali e questo invece è un intervento di una rotonda che non sta su questo incrocio, questo incrocio è stato solo riqualificato e ripavimentato, la rotonda sta poco più avanti su questa strada che l'ex strada all'80, dove stiamo intervenendo per migliorare le condizioni di viabilità, ma soprattutto per dare decoro e dignità a un territorio che sta crescendo industrialmente e da un punto di vista numerico di popolazione, sul quale stiamo investendo molto, così come su tutto l'asseviario che collega la costa a Teramo città. Due importanti interventi da parte della provincia di Teramo fondamentali per la viabilità ma anche per la sicurezza. Sì, sicuramente per la sicurezza. Qui ci troviamo in corrispondenza di un incrocio che dava molti problemi sotto il profilo della sicurezza della circolazione. E' stato fatto un intervento molto importante con la realizzazione di sparti traffico rialzati e con la segnaletica che verrà apposta subito dopo pensiamo di aver risolto grazie all'intervento fondamentale della provincia di Teramo un problema che era un problema di anni e che doveva essere finalmente risolto. Poco più avanti, in corrispondenza dell'ingresso al quartiere di Villa Rasicci sarà realizzata anche lì da parte della provincia di Teramo una rotonda, una rotatoria in un punto che purtroppo ha conto anche la presenza di incidenti mortali. Quindi io penso che stiamo dando ai cittadini di Bellante ma non soltanto anche ai cittadini della provincia di Teramo visto che questa è una strada molto molto trafficata la possibilità di percorrere questi tratti di strada in condizioni di sicurezza migliore rispetto al passato. Grazie a tutti.